Un'unica voce, una sola, noi siamo la triata! In porta numero 13, Paul! Il capitano 24, Alessandro! Numero 6, Chris! Numero 23, Gianluca! Numero 11, Alexander! Numero 42, Amadou! Numero 21, Giordano! Numero 22, Nicolo! Numero 7, Lorenzo! Numero 8, Diego! Il rame! Numero 9, Fedi! Diego! No! 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 Posizione Oro 63, Fusato! 83, Milan! 4, Pistante! 5, Jesus! 15, check in! 17, Ruka! 19, Kainich! 33, Pes! Alla passante, seguita zona, allenatore, signor Polo!